Buongiorno a tutti, ringrazio intanto la Regione per avermi dato la possibilità di presentare i risultati del progetto in cui sono stato coinvolto in qualità di assegnista di ricerca e mi scuso per non essere presente lì e per aver perso i primi interventi, ma letteralmente fino a qualche minuto fa ero impegnato in un'altra conferenza fuori regione e porto anche i saluti della professoressa Marilina Betrò che è la responsabile scientifica del progetto. Vado con la condivisione della presentazione. Chiedo scusa nuovamente. Ecco, dovrebbe vedersi? Mi sentite? Sì, vediamo tutto, grazie. Ok, perfetto. Bene, allora, presento qui i risultati del progetto TEMA, la Toscana egittologica tra musei e archivi, un progetto dell'Università di Pisa e in particolare del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, che sotto la direzione della professoressa Marilina Betrò si proponeva di creare una rete di connessioni tra gli operatori culturali della Regione che conservano il materiale sulla spedizione in Egitto dell'egittologo pisano Ippolito Rosellini e sulla formazione delle collezioni egizie attualmente presenti in Toscana ma anche passate nella Regione nella prima metà del XIX secolo. Occorre ovviamente ringraziare i partner del progetto a partire dai operatori della filiera culturale che sono l'Archivio di Stato di Livorno e la Biblioteca Universitaria di Pisa, ma hanno partecipato al progetto altri partner della Regione e non solo, come l'Opera della Primaziale Pisana, le collezioni egittologiche di Ateneo dell'Università di Pisa, il Museo Egizio di Torino, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, la Fondazione Pisa e l'azienda TD Group Italia. Occorre anche una contestualizzazione storica e geografica per spiegare il perché è stata scelta la prima metà dell'Ottocento e la Regione Toscana. Il periodo soprattutto è fondamentale per la nascita e la formazione della disciplina egittologica grazie alle prime spedizioni scientifiche in Egitto, a partire da quella di Napoleone, che oggi non potevo non citarlo essendo il 5 maggio, e quella franco-toscana diretta da Ippolito Rosellini e Jean-François Champollion, che approfondirò in seguito, e la spedizione prussiana. In questo periodo esplode una vera e propria mania, un'Egittomania, una moda verso l'Antico Egitto, con un'influenza del gusto artistico, il cosiddetto gusto neo-egizio, e parlando di Firenze mi viene in mente la galleria egizia di Palazzo Adamilami, e quindi tutte le grandi corti europee cominciano a voler un proprio museo egizio, e per questo motivo nella cosiddetta fase, chiamata anche epoca dei consoli, nascono le prime grandi collezioni egizie, che poi confluiscono nei musei europei. E in questo periodo la Toscana ha un ruolo fondamentale per la disciplina egittologica, non solo legata alla figura dell'egittologo pisano Ippolito Rosellini, a cui fra l'altro è affidata la prima cattedra di egittologia al mondo nel 1826, proprio nell'Università di Pisa, ma soprattutto perché Livorno diventa, più per motivi di convenienza fiscale che per motivi geografici, la porta europea verso queste grandi collezioni, che partono dai porti egiziani, in particolare da Alessandria d'Egitto, e arrivano nei grandi musei europei come il Museo Egizio di Torino, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il British Museum, il Louvre, il Museo di Berlino, l'Eida e tanti altri. E in questo contesto è importantissimo, come dicevo, la spedizione letteraria toscana, organizzata nel 1828-29 da Rosellini e Champollion, e che portò in Toscana una mole gigantesca di documenti, circa 10.000 carte e 1.400 disegni attualmente conservati in uno dei partner del progetto, quindi la Biblioteca Universitaria di Pisa, e le circa 2.000 antichità conservate nel Museo di Firenze. Come dicevo, il porto di Livorno diventa l'approdo preferito, non solo per le collezioni egizie, ma in generale per i commerci verso il Mediterraneo orientale, e nel porto labronico passano le principali collezioni egizie del momento, a partire dalla collezione di Bernardino Droetti, il console generale di Francia, che arriva nel 1818 e poi confluisce nel Museo Egizio di Torino fondato nel 1824. Quindi il progetto aveva dei obiettivi principali, intanto lo studio, la digitalizzazione e l'indicizzazione dei documenti dei due partner principali, cioè l'Archivio di Stato di Livorno e della Biblioteca Universitaria di Pisa, ovviamente relativi all'argomento di studio del progetto. Contestualmente quindi la progettazione e la pubblicazione di un web database che raccogliesse tutti i dati raccolti relativi all'arrivo delle navi con carico egittologico nel porto di Livorno nella prima metà del XIX secolo, passando poi alla parte museale del progetto, la realizzazione di modelli 3D dei reperti egizi raccolti dalla spedizione franco-toscana e rimasti a Pisa, quindi non confluiti nella raccolta di Firenze, e poi un'attenzione al grande pubblico, quindi con la comunicazione e divulgazione non solo dei risultati del progetto, ma anche della storia dell'antico Egitto, che comunque ha sempre grande presa verso il pubblico generico, attraverso canali tradizionali, quindi mostre e conferenze, ma anche grazie all'utilizzo dei social network. Ho raggruppato i principali risultati in tre grandi categorie, ovviamente visto il tema della giornata oggi mi concentrerò più sugli archivi, ma ovviamente ci sono stati degli importanti risultati egittologici con la scoperta di un importantissimo documento inedito conservato presso la biblioteca Labronica di Livorno, che inizialmente non era inserita all'interno dei partner del progetto, ma poi si è riservata un'importante fonte di informazioni e un ottimo partner per il progetto. In questo caso è stata individuata, studiata e pubblicata una lista di antichità appartenute al console inglese in Egitto Harry Solt, quindi una lista di circa 111 casse contenenti migliaia di reperti archeologici, arrivati a Livorno nel 1825, rimasti tra porto e magazzini dei commercianti locali per mesi, se non circa un anno e mezzo, e studiati da Champollion in persona, che fu il tramite per l'acquisto per il Louvre. Quindi la lista di queste antichità egizie arrivate a Livorno adesso fa parte quindi del patrimonio museale del Louvre, tra cui forse l'oggetto più conosciuto, più importante, è questa gran sfinge di granito rosso, riportato nell'inventario, e che è praticamente il reperto che accoglie il visitatore che arriva alla collezione egizia del Louvre. Lo studio effettuato è in fase di pubblicazione sulla rivista scientifica Egitto Vicino Oriente, credo che sarà pubblicata la settimana prossima, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda invece la ricerca archivistica, ho principalmente utilizzato due tipologie di fonti. i fondi dell'archivio di Stato di Livorno, in particolare il magistrato poi Dipartimento di Sanità Marittima e il fondo Capitano del Porto, e ho consultato anche il giornale di commercio del Porto Franco di Livorno, che era pubblicato due volte a settimana, a partire dal 1822, con tutte le informazioni principali riguardanti il traffico marittimo del Porto di Livorno, ma anche informazioni che venivano da altri importanti porti del Mediterraneo. In particolare tra le fonti dell'archivio di Stato di Livorno, ho consultato il cosiddetto protocollo degli arrivi dei bastimenti in Stato di Contumacia del Porto di Livorno. Quindi è un registro che annota tutte le principali informazioni delle navi in quarantena, arrivate nei lazzeretti di Livorno, con le principali informazioni, quindi a partire ovviamente dalla data di arrivo, il nome della nave, il nome del Capitano, i giorni di permanenza nel lazzeretto, la nazionalità, quindi la bandiera della nave, i giorni di navigazione che sono importanti per ricostruire il viaggio, quindi la data di partenza da Alessandria d'Egitto e altri porti egiziani come Abukir, Damietta e Rosetta e soprattutto la merce in stiva. Per quanto riguarda le navi provenienti da Alessandria d'Egitto, si notano soprattutto prodotti alimentari, in particolare grano e altri tipi di prodotti, ma a volte si annoverano anche reperti archeologici e mummie. Quindi ho consultato tutti gli arrivi da Alessandria d'Egitto dal 1799 fino al 1858, individuando 2809 navi, tra cui un centinaio di menzioni di antichità e mummie, che equivalgono più o meno al 3%, che non è una bassa percentuale rispetto al tipo di merce. Contestualmente i dati più o meno coincidono con il giornale di commercio del Porto Franco di Livorno, ma ovviamente i numeri sono più bassi perché si inizia dal 1822. Tra questi è compresa anche la nave che portò la spedizione di Rosellini a Livorno, quindi ho trovato... Mattia hai ancora 3 minuti. Sì, allora vado velocissimo, quindi i dati poi sono confluiti in questo database, Danae, database delle navi con antichità egizie, che raccoglie tutte le informazioni relative alle navi arrivate a Livorno con reperti egizi, quindi si può fare una ricerca attraverso il nome della nave e dovrebbe partire il video, quindi almeno mostro la prima parte del video, quindi attraverso il nome della nave si riesce a recuperare le informazioni raccolte nell'archivio. vado un po' più avanti, comunque ecco, ci sono le principali informazioni che permettono poi di ricostruire la storia della collezione e si arriva anche al documento stesso che è stato trascritto e digitalizzato con altre informazioni che non sono direttamente collegate alla storia egittologica del prodotto. Ci sono altre tipologie di ricerche che salto. Un altro risultato è quindi la digitalizzazione, l'indicizzazione delle carte relative al fondo rosellini conservate nella Biblioteca Universitaria di Pisa e trasferite poi sul portale dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico dell'Internet Culturale e passando poi molto velocemente alla parte museale sono stati prodotti dei modelli 3D delle collezioni, dei reperti egizi attualmente conservati a Pisa che ha portato quindi tramite una campagna di fotogrammetria e l'utilizzo di software come Metashape e MeshLab alla realizzazione di modelli che sono fruibili in questi portali gratuiti tra cui Visual Ariadne del CNR e Sketchfab e che ha portato quindi all'utilizzo di questi modelli 3D di reperti che possono essere ruotati nello spazio si possono vedere i particolari si riesce poi a cambiare anche l'inclinazione della luce che è molto importante per i reperti in cui ci sono iscrizioni e rilievi come in questo caso e si può decidere anche di eliminare la texture per leggere meglio l'oggetto in caso di materiali problematici come il granito quindi vado avanti e come prospettive future c'è l'estensione del metodo al di fuori della Toscana e è attualmente in corso un nuovo progetto che cerca queste tracce al di fuori della Toscana e dell'Italia l'implementazione del web database Danae con nuove informazioni e nuove ricerche una cosa molto positiva è che dal progetto è nata una nuova collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Pisa che ha apprezzato il lavoro e mi ha proposto una nuova collaborazione per l'inserimento di schede relative ai documenti del Fondo Rosellini sul portale Manus Online e per quanto riguarda invece la parte museale l'intesa con altri musei per l'utilizzo condiviso di questi modelli 3D che sono fondamentali per ricostruire in ambienti virtuali oggetti frammentati o appartenuti a contesti archeologici dispersi impossibili da riunire se non con mostre temporanee e con questo vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso per la fretta nella presentazione grazie a tutti grazie a tutti